Il mondo del lavoro ha bisogno di tecnici superiori. ITS li forma. 2000 ore di alta formazione dopo il diploma. Efficienza energetica. Mobilità sostenibile. Nuove tecnologie della vita. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. Tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Nuove tecnologie per il Made in Italy. Istituti tecnici superiori. Hai una scelta in più. Ora il futuro prende forma. Stai cercando la strada giusta per un futuro professionale ricco di prospettive? L'ITS di Siracusa organizza il corso gratuito di formazione tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera turistica. Grazie ad attività d'aula, esercitazioni di laboratorio e stage acquisirai competenze nell'ambito della conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturali a fini turistici, con immediate possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Per informazioni, rivolgiti alla Fondazione Archimede di Viale Santa Panagia 131 a Siracusa o visite il sito www.its-fondazionearchimede.it Le domande di iscrizione al corso vanno presentate entro il 3 dicembre.